Il 24 febbraio andiamo tutti a Roma e l'appello lanciato dal movimento spontaneo dei lavoratori in vista dell'importante incontro che si terrà al Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla vertenza Gela. L'appello è stato rivolto alla Sindaco, all'Amministrazione, a tutto il Consiglio Comunale, ai segretari confederali di categoria e agli imprenditori gelesi per cercare di organizzare dei pullman al fine di raggiungere la capitale. Il 24 febbraio prossimo è una data importante. Sul tavolo del confronto infatti c'è il futuro industriale di Gela. Si parlerà della riconversione green e della raffineria dovrà essere messo nero su bianco su quello che sarà il futuro di un intero territorio. Sarà discusso inoltre il protocollo d'intesa siglato il 6 novembre del 2014. Chi ha preso degli impegni con i lavoratori, sostiene il movimento spontaneo, deve portarlo a compimento. Il movimento spontaneo dei lavoratori inoltre sottolinea il disinteresse riscontrato ad oggi da parte di tutto il Consiglio Comunale che doveva indire una riunione con i sindacati, con gli imprenditori, con i commercianti per organizzare la partenza per Roma. Per lo stesso movimento spontaneo ci sarebbe in atto un boicottaggio da parte di qualcuno per interessi strettamente personali. Intanto i lavoratori dell'indotto hanno scritto una lettera al presidente della regione siciliana, il giulese Rosario Crocetta, in cui lo esortano a non dimenticare il dramma che stanno vivendo. Ci sono lavoratori, scrivono che da diversi mesi sono rimasti senza percepire alcun reddito. Come manteniamo le nostre famiglie? Pagare tasse, mutui, beni di prima necessità. Ognuno di noi rischia di perdere ciò che ha costruito con tanti sacrifici. Eppure, sottolineano, non si doveva perdere alcun posto di lavoro. Vogliamo riprenderci la nostra dignità che qualcuno ci ha tolto. Vogliamo essere uomini liberi. Non vogliamo continuano politiche al sostegno della povertà, cassa integrazione o mobilità. Abbiamo bisogno di risposte immediate, non a tavoli istituzionali che vanno avanti da mesi. Presidente Crocetta, ribadiscono ancora, è facile dire che non ha il potere di cambiare le cose. Noi lavoratori pensiamo e siamo convinti che lei il potere ce l'abbia, come pure una grande responsabilità politica, quella di rimettere in piedi questo Paese che continua ad essere vittima delle contraposizioni politiche che vanno a discapito dei cittadini. Vogliamo solo fatti concreti.